ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale stilograficamente il canale dove la mente si rivolge al bello oggi il bello torna a prendere le sembianze del marchio visconti in particolare in questo caso della visconti van gogh room in arlet farò una digressione delle parti che compongono questa penna anche se non è un modello sconosciuto in questo canale ma nella prima volta che vediamo una van gogh farò una piccola digressione per quello che riguarda la mia storia con questa penna farò una prova di scrittura stenderò una pagellina con i valori con cui sono solito soppesare le nostre amate stilografiche e ci lasceremo con delle considerazioni finale bene partiamo subito allora la sommità del cappuccio il solito logo con my pen system quindi logo visconti si può rimuovere con un magnete sostituire con le vostre iniziali oppure un altro tipo di personalizzazione può essere il vostro segno zodiacale o una pietra colorata che andrete a inserire sempre a magnete il fondello è un fondello sempre metallico specchiato clip a forma di arco che ricalca ponte vecchio a firenze caratteristica del marchio visconti abbastanza ben serrata la scritta visconti e su campo nero in entrambi i lati della clip anche se in maniera inversa l'uno rispetto all'altro l'anello del cappuccio ha la veretta del cappuccio alla scritta room in harley van gogh ed è zigrinata nelle contornature la penna come avete visto da vicino è sfaccettata mi permetto di fare un po di zoom perché voglio farvele apprezzare le volute della resina plastica visconti è divenuta molto famosa per questa caratteristica resina plastica che è praticamente differente da esemplare in esemplare le volute non sono mai le stesse ogni esemplare è originale a se stesso quello che rimane è la il pantone dei colori la paletta dei colori utilizzata per cui nel caso della room in harley troverete sempre questo rosso arancione giallo fino a tinte un po più scure che arrivano sul marrone scuro quasi nero praticamente che ricalcano appunto i colori utilizzati nel quadro del grande maestro impressionista il cappuccio si si sfila ed è un cappuccio a chiusura magnetica in particolare ruotandolo leggermente dopo averlo infilato si serra in maniera piuttosto sicura tornendo il cappuccio possiamo ammirare un pennino in acciaio in questo caso di praticamente seconda serie perché questa è la il modello van gogh seconda serie quindi ancora non in ausa con un un enfloraggio inciso davvero interessante molto elegante con la scritta visconti firenze e sotto il grado del pennino quindi f fine la mezzaluna di foro di sfiato è caratteristica della dei pennini visconti alle spalle del pennino troviamo un alimentatore in plastica con la v del logo visconti la sezione come potete vedere è in metallo con un anello finale che segnala dal punto di vista tattile alle vostre dita che stanno per sconfinare sull'alimentatore sul pennino quindi per non sporcarvi vi basta fermarvi qui ed è una protuberanza che si sente non dà fastidio nel caso in cui si impugni la penna col dorso del dito medio proprio sullo scalino della protuberanza vi assicuro che non ci sono problemi abbastanza dolce la sezione si svita dal fusto rivelando il meccanismo di caricamento che è a cartuccio converter con attacco standard internazionale il converter attualmente mi risulta essere dato in dotazione comunque è brandizzato con marchio visconti dovrebbe essere uno smith numero 5 se non mi ricordo un k5 qualcosa del genere o k6 non ricordo prima di richiuderla vi segnalo che la filettatura interna è in metallo così come l'alloggio del converter per cui filettatura della del fusto piuttosto che filettatura dell'alloggio del converter essendo entrambe in metallo sono meno soggette ad usura del tempo e ad avvitature maldestre per cui essendo in metallo è sicuramente un plus bene per quanto riguarda la mia storia con questa penna si fa presto a raccontarla e la mia prima visconti non so come mai ci ho messo così tanto tempo a recensirla non so veramente dirvelo però è stata la visconti che per prima è entrata nelle mie tasche nella mia collezione non era questo l'esemplare che avrei voluto prendere per primo volevo prendere la visconti van gogh red swirl prima serie non ho avuto l'occasione perché il negoziante l'aveva già venduta e quindi con maestria da venditore mi avvicinò a questa seconda serie sempre van gogh ruminarle e devo dire che è stato un buon ripiego per cui tanto di cappello la capacità del venditore di comunque cercare di andare incontro ai gusti e desideri del proprio cliente la red swirl non l'ho più ritrovata se non online per un brevissimo periodo di tempo in cui puntavo un'altra penna per cui l'ho persa anche per la seconda volta ma tornando alla ruminarle devo dire sicuramente una delle due van gogh che più delle tre van gogh forse che più mi sono piaciute e che ho dovuto acquistare insomma sia io ne ho acquistate due su tre però una l'avete già vista anzi due le avete già viste avete visto la starry night che ho deciso di acquistare e anche la caffè in terrasse terrasse caffè qualcosa del genere che ho comunque recensito e che aveva delle tinte simili a quelle della starry night ma un po più pronunciate verso il giallo per cui ancora più appariscente ancora più bella secondo me sono le tre penne più belle secondo me tra le tra le van gogh secondo il mio modesto parere tra le livre che vengono annoverate all'interno della linea van gogh visconti comunque vi offre la possibilità di avere la offerta in passato non so se è ancora disponibile un cofanetto che racchiude tutte le visconti van gogh sicuramente impegnativo dal punto di vista economico molto interessante dal punto di vista collezionistico chiaramente non è esaustivo perché la serie van gogh va ad arricchirsi momento per momento però ripeto questa è una delle livree che più mi sono piaciute quindi necessariamente ho dovuto acquistarla bando alle ciance ne abbiamo veramente dette tante mettiamo questa penna alla prova di scrittura vi chiedo scusa dalla sfocatura vediamo se riesco ad aggiustare ok prova di continuità di flusso la pena non perde un colpo vediamo la copiosità di questo flusso discreta moderata non a definirei una copiosità abbondante l'inchiostro con cui sto scrivendo è il diamine ancient copper che ho trovato legare piuttosto bene con la libreria della penna chiaramente vanno anche altri inchiostri per cui arancione più chiaro più scuro un diamine out un occhio ci ho messo lo sbray brown varie tinte però sono sempre stato fedele alle tinte che trovavo sul flusso della penna perché sono fatto così bene a questo punto non resta che scrivere la pagellina come sempre scrivo tutto commentiamo la fine allora per quanto concerne il flusso direi un 8 su 10 perché comunque sia ci sono diversi il flusso è abbastanza moderato non è una penna particolarmente generosa e almeno per questo pennino fine io di solito sono abituato ai medi broad e double broad o agli oblique broad addirittura per cui sinceramente credo sia connaturato anche al pennino ma si può sicuramente aumentare nel flusso non l'ho ancora fatto perché tutto sommato molto dipende da quanto inchiostro richiama la trama della carta questa è una trama pressata e su questa carta non è l'ideale scriverci con questa io preferisco scriverci su paper blanks o trame anche di qualità inferiore ma quindi più irregolari meno patinate che chiamano più inchiostro quindi comunque qui prende un 8 su 10 rodi è lo standard delle recensioni quindi lo rapporto a questa carta feedback 9 su 10 perché comunque si avverte un pennino un pover polish su questa carta rende meno bene perché ha meno grip sulla sulla trama del foglio insomma essendo molto pressata molto compatta l'impugnabilità 9 su 10 9 su 10 ho tolto un punto perché comunque sia è un po' scivolosa e metallo non è il grip più comodo della terra anche se si impugna piuttosto facilmente cioè io non ho problemi potete impugnarla fin qui poi bisogna calzare il cappuccio operazione che purtroppo può graffiare il vostro fusto e comunque devo dire la verità io non trovo una calzatura sicura per cui sinceramente l'impugnabilità non essendo il cappuccio calzabile perde due punti manutenibilità invece 10 su 10 perché comunque sia parliamo di un esemplare che ha cartucce o converter facilmente pulibile il gruppo di scrittura si sfila non ci sono problemi rapporto qualità prezzo lo vediamo dopo materiali 9 su 10 9 su 10 perché la clip è sicuramente stupenda così come tutte le minuterie metalliche sono ben curate la resina plastica è quello che rende fa spiccare questo modello sicuramente per le fantasie colori utilizzati anche il pennino però è in acciaio per cui ho tolto un punto 9 su 10 per il bilanciamento lo vediamo subito vediamo come si comporta il fulcro della penna grosso modo è qui quindi comunque spostato verso il gruppo di scrittura come piace a me dal mio punto di vista una stilografica deve avere il fulcro al più qui ma più spostato è rispetto al gruppo di scrittura meglio è naturalmente la penna chiusa cambia di bilanciamento per cui il fulcro propende verso il basso verso il cappuccio comunque bilanciamento 10 su 10 allora in termini di qualità costruttiva di assemblaggio sicuramente parliamo di una qualità alta anche di rifinitura dei caratteri della zigrinatura della della veretta del cappuccio la chiusura magnetica per carità chiude bene anche stata una bella novità introdotta da visconti ai suoi pregi sicuramente ahimè non è una penna economica per cui mi sento nonostante la qualità sia molto alta considerato anche guardate il pennino sarà anche in acciaio però la fantasia che c'è sopra nella prima serie è stupenda nella seconda serie scusate è stupenda comunque rapporto qualità prezzo per me prende un 8 su 10 sia per un tema di prezzo alto sia per un tema di pennino dal flusso un po' scarsino e soprattutto con non tanto qui non l'abbiamo visto anche perché ho premuto abbastanza ma andando un po più leggero ecco adesso chiaramente mi smentisce però o anche perché l'ho allargato a furia di premere il pennino eccolo qui da ogni tanto saltuari skipping per cui nulla di recriminabile a livelli da esaurimento nervoso questo pennino ogni tanto da skipping soprattutto su carte su carte ultra lisce signori non dimentichiamo il triangolo carta penna inchiostro se la vostra penna scrive male provate a variare gli altri elementi di questa variabile di queste tre di questa composizione geometrica se non doveste uscirne fuori allora potrete sicuramente approfondire con i video di aumento del flusso d'inchiostro che ho già pubblicato sul mio canale sono ben due di cui uno la settimana scorsa per cui come considerazioni finali devo dire che questa penna ha avuto un potere non indifferente di farmi finalmente entrare o scivolare nella tana di visconti e di rimanerci a lungo perché ho acquistato numerosi esemplari di questo marchio per cui senza dubbio ha esercitato di su di me un fascino considerevole senza dubbio una penna degna di entrare nella vostra collezione il mio suggerimento è impugnatela vedete come sta nelle vostre mani perché per me è al pelo ci sono altri esemplari che ho acquistato di visconti che sono un po più lunghi un po più grossi però comunque mi ci trovo abbastanza bene e anche per questo che non è nella mia rotazione abituale e ci ha messo così tanto tempo a essere recensita sul mio canale oltre a fatto che comunque già diverse van gogh sono passate di qui quindi questa è la livrea per me più bella oltre alla starry night chiaramente oltre alla cafe in terrace che sono comunque delle viaggiano sul blu questa è sul rosso comunque direi che per questo video è tutto io vi ringrazio per averlo seguito fin qui vi do appuntamento al prossimo video se questo vi è piaciuto cliccate sul like iscrivetevi al canale commentate fate tutte le cose che siete soliti fare quando volete incoraggiare un canale quando volete dare un sostegno grazie a tutti voi e al prossimo video stilograficamente parlando ciao a tutti